Voi sapete chi ha scoperto Marco Cunico? Eh tu immagina, immaginavo! Dove ti ha scoperto? Pensavo, nel Dueville, no? Sì. Quando ha comprato il Vicenza... Sì, esatto, ma lui aveva dieci anni, perché il fratello giocava... A dieci anni andavi a prendere i giocatori anche? Roba proprio appena... Sì, siamo andati a casa sua, perché c'era il fratello che giocava già da noi, perché il suo fratello Andrea è del 74, e giocava già da noi. E il presidente del Tiene, allora, era il fidanzato di sua cugina. E siamo andati a casa sua, perché questo fidanzato di sua cugina, che era il presidente del Tiene, Marcello Prestani, dottor Prestani... Si è sposato poi con la cugina? Sì, sì. Mi dice, perché si parlava appunto di Andrea Cunico, che stava facendo bene, che era bravo, e lui mi fa, ma sai che il suo fratello è ancora più bravo? È ancora più bravo? No. Allora siamo andati fino a casa sua per vedere di portarlo a Dueville. Mi ricordo che nel giardino dietro, dietro casa, lui andava a prendere le lucertole con le mani sulla... Pure. Sulla mura. No, allora io e il nostro, e io e il mio amico, a quel tempo direttore sportive, mi fa, che era il dobbio attorno a quel giardino, a quel giardino, a quel mani. Non te lo ricordi questo? No, non te lo ricorda da lui. Poi l'ha portato a Dueville. L'ha portato a Dueville, e dopo la Dueville è venuto a Vicenza, ma lui aveva grandissime qualità, veramente.